Popolo della densa anni 90, vi ricordate queste bombe? Dieci e cento mille mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so I protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai E' un'emozione il tuo corpo che si muove, è un'esplosione che non mi dà ragione Il tuo sorriso riflette sul mio viso, accende un fuoco che mi rimette in gioco Voglio una vita esagerata Dopo i loro grandi successi, i brothers sono tornati Noi supereroi